Gesù gli rispose non ti dico fino a sette volte ma fino a settanta volte sette wow sappiamo già che è lo scherzo orientale per dire sempre moltiplicare un numero per il suo multiplo ma qui c'è un po' di peperoncino che Gesù ha messo perché se voi avete la pazienza e la voglia di leggervi il capitolo quarto della Genesi verso la fine non verso l'inizio perché all'inizio c'è l'uccisione di Caino nei confronti di Abele poi c'è la discendenza di Caino poi uno di questi discendenti viene fotografato in una situazione di una antipatia piramidale l'amec si prende due mogli non una due e mette le donne in stato di sudditanza perché le fa tacere e far tacere una donna è come chiedere a Dio che non sia onnipotente io l'ho imparato dalla dottoressa Covezzi quando mia madre ha avuto un'emorragia cerebrale e non parlava la dottoressa Covezzi mi dice ah Don Renato dice fra un mese torna a parlare si dice perché l'aria di Brocca viene fotocopiata dall'altro emisfero e quindi noi donne abbiamo questo privilegio voi uomini no se madre natura detta così allora si capisce perché le donne naturalmente Don Renato che è malfatto dice ma dottoressa perché succede questo a voi donne e a noi no allora lei non so se mi ha preso per i fondelli o ha detto la verità ma mi ha risposto perché voi uomini non avete a che fare con il bambino piccolo noi donne sì e quindi madre natura ha provveduto e Don Renato ha tirato giù le orecchie e non ha più risposto se tutto questo è vero è interessantissimo e l'amec allora sta andando contro natura perché dice voi ascoltate verbo ascoltare in ebraico è micidiale perché vuol dire anche obbedire e poi annuncia il principio uccido un uomo per una mia scalfitura e un giovane per un mio livido e poi piazza la stupidaggine gigante caino sarà vendicato sette volte l'amec e Gesù con un colpo di spugna cancella migliaia migliaia di civiltà del sopruso e della vendetta dicendo non sette caino ma settanta volte sette detto questo siccome Gesù sapeva con chi aveva a che fare allora detto questo continua per questo il regno dei cieli è simile ad un re che voleva regolare i conti con i suoi servi aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila talenti milioni di euro come abbia fatto a fare quel debito solo Dio lo sa poiché costui non era in grado di restituire come i greci oggi o si ristruttura il debito greco se no poveri greci sono sempre lì a boccheggiare poiché costui non era in grado di restituire il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie i figli e quanto possedeva e così saldasse il debito fatto regolarissimo perché in oriente quando uno ha debiti ed è insolvente viene venduto a rovescio prima i figli poi la moglie poi lui e deve servire se è ebreo per sette anni poi viene liberato ma il problema è che non ha niente e allora succedeva spessissimo che il servo dopo sette anni chiedeva al padrone di rimanere a servizio e gli bucavano l'orecchio il padrone lo portava fuori casa e sullo stipite della porta prendeva il lobo e con il coltellino tric e poi gli infilavano l'orecchino avere l'orecchino in oriente era segno che quell'uomo era stato schiavo guardate che la schiavitù in oriente significa fare servizio pagato era stato schiavo si era trovato bene col padrone e da qui in avanti scegliendo di stare col padrone non avrebbe più avuto problemi di debiti perché mangiava beveva vestiva panni obbediva e in più aveva qualche soldino da parte e quindi questo padrone cosa fa? si comporta in maniera corretta secondo il diritto ebraico tu hai dei debiti non li paghi tu i tuoi figli tua moglie sette anni da schiavetti poi vedremo allora il servo prostrato a terra lo supplicava dicendo abbi pazienza con me ti restituirò ti restituirò ogni cosa siamo in oriente dove la bugia è metodo il padrone il padrone ebbe compassione di quel servo lo lasciò andare e gli condonò il debito appena uscito quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva cento denari non era poco non era neanche tanto in rapporto ai talenti se voi se voi tenete presente se voi tenete presente che il denaro un denaro è la paga di un servo di un giorno gli doveva tre mensilità abbondanti lui doveva il padrone milioni di euro sto qua gli doveva quattromila cinquemila euro e lo soffocava dicendo restituisci quello che devi il suo compagno prostrato a terra lo pregava dicendo provate ad osservare le parole che dice all'alversetto ventinove sto povero cristo preso per il collo e cosa aveva detto il servo alla linea 43 abbi pazienza con me e ti restituirò notate che sono le stesse parole bugiardo anche questo ovviamente ma egli non volle andò da chi dal capo degli schiavi vi ricordate a un dato per televisione a puntate Spartacus il capo dei gladiatori era un nero non mi ricordo più come si chiamasse e aveva un potere piuttosto grosso il capo degli schiavi perché il capo degli schiavi era vicino purtroppo ai nostri caporali decideva lui cosa facevi tu quel giorno ti diceva tu oggi vai a spaccare pietre e non potevi opporti tu oggi vai al mercato a fare la spesa molto meglio quindi capite che questa figura che si trova in penombra nel racconto è un facente funzione del padrone il quale non interessava cosa faceva il tizio il caio ma gli interessava che alla fine giornata le cose fossero a posto e fossero fatte chi manovrava le faccende era questo capo schiavi il nostro amico a cui era stato condonato una cifra esorbitante va dal capo schiavo e dice tu oggi non lo paghi lo fai lavorare non lo paghi i soldi li dai a me mi spiego e questo lo avrebbe dovuto fare per tre mesi e dieci giorni ma egli non volle andò e lo fece gettare in prigione gettare in prigione non significa mettere dentro una stanza e chiudere la chiave ma significa lavorare gratis quindi questo secondo servo avrebbe mangiato dormito per l'amor del cielo non sarebbe morto però non avrebbe messo da parte neanche una lira lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito visto quello che accadeva i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto se voi notate qui non c'è una legge che è stata disattesa non c'è uno feilemat di per sé perché nel mondo ebraico se io ho un debito con te tu me lo condoni io non assumo nessun dovere verso terzi nel condonare i debiti qui subentra la coscienza i servi in questo caso sono la personificazione della coscienza che ognuno dovrebbe avere furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse servo malvagio io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato du le ponere servo malvagio andate alla linea 12 notate che c'è lo stesso vocabolo te l'ho rimesso una volta per tutte affeca è un'azione puntuale e pei poiché paracaleo vuol dire pregare nel senso di dirle preghiere padre nostro ave marie chiaro quindi qui c'è un'allusione la descrizione è esatta il servo prega il padrone abbi pazienza con me ti restituirò ogni cosa padrone condona ma adoperare questo verbo vuol dire fare un'allusione a quello che è la vita delle persone tu preghi Dio per essere perdonato allora tu preghi io ti perdono linea 50 versetto 33 non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno così come io ho avuto pietà di te testo greco uc uc edei caise eleesai pronuncia classica eleesai eleison kirie eleesai anzi sarebbe eleise perché nella pronuncia ellenistica alfa iota diventa e e eta diventa i eleise ci si diverte un poco non dovevi tu avere pietà questo eleison signore pietà è l'invocazione che il cristiano fa a Dio e Dio ha pietà perché Dio perdona tu come Dio devi avere pietà dell'altro e qui linea 51 in grassetto io vi ho messo in evidenza una cosa che letta in italiano fa anche sorridere perché dice cai cago e la crasi tra cai ed ego e viene fuori una piccola cacofonia italiana questo os cai ego os cai se andate alla linea 10 la stessa espressione che ad opera Matteo os cai come anche noi rimettiamo ai debitori nostri sdegnato il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto povero lavorato per tutta la vita senza un boro ma la cosa grave è quello che viene dopo perché questa parabola non è una parabola è un paragone noi la chiamiamo la parabola del del servo crudele o che ne so ma di per sé è un paragone così il padre è vostro quel così te lo dice chiaramente ti faccio un esempio e poi passo alla tua realtà la parabola della pecorella smarrita no tecnicamente è un paragone cento pecore per saù nel pastore va cerca trova fa festa così in cielo per un peccatore che si converte la parabola della dramma perduta no è un paragone tecnicamente parlando la donna perde la moneta la cerca la trova fa festa così mi spiego se rispettiamo il testo il testo parla molto bene buon samaritano non è una parabola va e fa anche tu lo stesso è un racconto esemplare noi però che alle volte trattiamo in maniera molto grezza la lettura del testo perché tanto tra Pinocchio e Biancaneve e Evangeli c'è poca differenza andiamo alla grossa e via mentre invece se avessimo un pizzico di occhio clinico leggere il testo biblico non è difficile basta prestare attenzione a ciò che è scritto non prestare attenzione ai preconcetti che abbiamo noi in testa stare a quello che è scritto basta è la salvezza bene così anche il Padre mio Celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello grossa eh? cosa ricaviamo da questo racconto? una dinamica abbastanza chiara tu non devi perdonare per primo punto Dio deve farti sperimentare il perdono dopodiché tu non hai nessun alibi ma prima è Dio che ti perdona poi tu perdoni questo è ciò che narra questo paragone allora il pensiero originario probabilmente è meglio espresso in Luca rimetti a noi i nostri peccati affinché e noi rimettiamo continuamente dopo perdoniamo continuamente ad ogni nostro debitore Matteo poteva indurre a un certo equivoco perché rimetti a noi tanto quanto noi e se noi a cento peccatori diamo novantanove perdoni e uno non lo perdoniamo noi diciamo a Dio comportati come me rimetti a noi i nostri debiti come noi o osserviamo il principio di rimettere i nostri debitori o rimetteremo una volta per tutte alla fine della vita ai nostri debitori e se non rimettiamo sono cavoli acidi perché Dio si comporterà con noi come noi ci siamo comportati con gli altri anche questo di per sé sarebbe un pensiero biblico perché se voi prendete il salmo 18 è lungo però non vi fa per niente male leggerlo a un certo momento il salmo dice con l'uomo buono tu sei buono con l'uomo giusto tu sei giusto con l'uomo puro tu sei puro e con il perverso tu sei astuto ti è noi molto spesso abbiamo l'idea del padre celeste un po' gnocco è buono combina tutto con il perverso tu sei astuto però con l'uomo buono sei buono con l'uomo giusto sei giusto con l'uomo puro sei puro cioè Dio si comporta con noi come noi ci comportiamo con gli altri quindi Matteo non è proprio fuori dai binari ma il nostro problema non è che Matteo sia dentro sia fuori il nostro problema è capire che cosa aveva detto Gesù e per capire cosa aveva detto Gesù noi ci astraiamo dalla formula del Padre nostro andiamo a esplorare il suo pensiero un pochettino a spasso per il Vangelo e questo è il primo elemento che emerge prima Dio ti perdona e nel momento in cui Dio ti perdona ti ha agganciato e tu non puoi sottrarti a questo principio fai esperienza questa esperienza la trasmetti come a te ha fatto piacere chiudere i conti senza pagare debiti la tua stessa esperienza la fai vivere ad un altro c'è di più c'è di più andiamo alla linea 57 alla linea 57 noi troviamo la parte finale del Padre Nostro di Matteo e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male e poi troviamo l'unico commento l'unico commento che Gesù fa al Padre Nostro siamo nelle beatitudini nel discorso della montagna Gesù presenta il Padre Nostro e poi fa una chiosa su che cosa fa la chiosa su sia santificato il tuo nome sia fatta la tua volontà ma che se voi infatti perdonerete agli altri uomini qui c'è una cattiveria io non capisco perché in italiano anzropois sia stato tradotto con altri perché in quel po' di greco che so io anzropoi vuol dire gli uomini e quando Matteo adopera gli uomini vuol dire tutti pagani e cristiani correligionari tuoi e non correligionari tuoi tutti e quindi una traduzione più corretta sarebbe stata se voi infatti perdonerete a tutti ti scoccia mettere tutti allora metti agli uomini ma il significato è chiaro se voi infatti perdonerete agli altri agli altri chi correligionari tuoi membri della tua comunità no non ci devono essere equivoci tutti se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe il padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi qui però ha rovesciato il discorso voi perdonate Dio perdonerà c'è un futuro ma allora questo commento corre di pari passo con la dicitura matteana rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo e allora fermi un momento tutto quanto parte dal grande perdono di Dio noi continuiamo a perdonare a chi ci ha fatto del male amici miei noi continueremo a peccare e poi c'è il perdono finale quello di Dio quindi nella logica del Vangelo la nostra vita interiore si apre col perdono di Dio e si chiude col perdono di Dio nel frattempo tu perdoni come lui notate che Gesù non chiede la impeccabilità io lo ripeto continuamente ma Gesù chiede convertiti sempre ogni momento cambia capoccia cambia modo di pensare uno di questi modi di pensare che devi cambiare è il perdono il perdono va dato sempre a tutti a questo punto però c'è una domanda ma io sono stupido perché nella nostra società oggi perdonare significa essere deboli che sono stupido che sono stupido sono stupido Grazie.